Avete mai seguito da vicino la carriera di uno dei grandi della musica italiana, Albano Carrisi? Oggi ci immergeremo in una storia che ha toccato il cuore dei fan di tutto il mondo. Restate sintonizzati fino alla fine perché c'è una notizia importante che potrebbe sorprendervi. Un'impressionante carriera musicale, il sogno di tornare sul palco di Sanremo, una confessione sconcertante. Albano Carrisi, il talentuoso cantante di Cellino San Marco, ha vissuto un momento drammatico. Una notizia tragica che pochi minuti fa ha sconvolto i suoi fan. Scopriamo insieme cosa è successo. Ora entriamo nella notizia. Albano Carrisi è un vero pilastro della musica italiana, riconosciuto per la vendita di oltre 25 milioni di dischi in tutto il mondo. La sua straordinaria carriera si è impreziosita con la conquista di ben 26 dischi d'oro e 8 dischi di platino. Questi incredibili traguardi non hanno affatto intaccato la sua passione e la sua determinazione nel rimanere attivo sulla scena musicale. Nonostante il suo straordinario successo, Albano non mostra alcuna intenzione di ritirarsi dal mondo della musica. Durante la 74esima edizione del Festival di Sanremo, Albano aveva presentato un brano per partecipare all'acclamato concorso musicale. Purtroppo, la sua creazione non ha ricevuto l'approvazione della giuria, vanificando così la possibilità del suo ritorno sul prestigioso palco dell'Ariston in veste di concorrente. Vi siete mai chiesti quali sfide possono affrontare i grandi artisti come Albano Carrisi? Quali ostacoli possono incrociare lungo il cammino? Condividete la vostra opinione nei commenti sotto il video. Nell'ultima edizione di Diva e Donna, Albano ha concesso un'intervista toccante e rivelatrice, svelando un grave problema di salute che ha recentemente minato la sua capacità espressiva. Il cantante ha apertamente ammesso di essere stato colpito da un disturbo vocale, così debilitante da rendergli impossibile non solo cantare, ma addirittura parlare. Con sincera franchezza ha confessato «Ero completamente privo della mia voce, neanche un filo di voce ieri. Ho dovuto assumere una quantità significativa di cortisone per cercare di risolvere questa complicazione». Ma prima di continuare, se ti piace rimanere aggiornato sulle notizie più recenti, non dimenticare di iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Questa confessione ha gettato una luce nuova sulle sfide personali affrontate da Albano, sottolineando la fragilità e la resilienza di un artista che, nonostante le difficoltà, continua a lottare per preservare la sua straordinaria voce e la sua presenza sulla scena musicale. Questo momento difficile per Albano Carrisi sottolinea la sua determinazione e la sua passione per la musica, nonostante gli ostacoli che ha incontrato lungo il cammino. Il suo talento e la sua dedizione rimangono una fonte di ispirazione per molti fan in tutto il mondo.